ha scritto il premio nobel per la letteratura mario vargas losa peruviano a proposito di un libro da molto tempo non leggevo un romanzo così persuasivo così commovente così brillantemente concepito un bel elogio da parte di uno scrittore grande l'elogio va a quello che è stato un po il libro dell'anno in spagna dove è stato scritto e poi in tutti i paesi dove è già stato tradotto fra il 2017 e quest'anno in italia l'ha tradotto guanda il titolo è patria dello scrittore spagnolo fernando aramburo che è uno scrittore di 60 anni delle terre basche si tratta di un intreccio di storie personali private due famiglie molto amiche a san sebastian ed intorni nella spagna basca ma come ogni storia privata nella narrativa ma anche nella vita nessun intreccio personale può chiamarsi fuori dal contesto civile pubblico comunitario dove si trova in questo caso siamo appunto a san sebastian dagli anni 80 in avanti c'è l'indipendentismo basco la fiera determinazione voglia di autonomia rispetto al potere spagnolo che però in quegli anni aveva anche una sua marginalità estremistica terroristica molto sanguinaria attentati attentati durissimi e questo ha portato nella comunità anche una sorta di continua ferita ci sono queste due famiglie molto amiche una madre un padre con dei figli prima adolescenti che poi crescono un'altra madre un altro padre con figli che poi crescono molto legati ma succede questo lo possiamo anticipare che uno dei due padri cade sotto i colpi di un attentato terroristico dell'eta e uno dei figli dell'altra famiglia è un po' implicato in questo attentato e quindi entra questa ferita questo dramma nei rapporti tra queste due famiglie ma la storia poi è palpitante perché racconta le trame personali i rapporti coniugali di matrimoni lunghi magari anche un po' stanchi ma comunque sempre sempre vivi i rapporti non sempre facili fra genitori e figli i rapporti di fratellanza sorrellanza l'innamoramento la sessualità la scoperta della vita che si gonfia dentro l'animo e lo stile del romanzo è incalzante diretto con continui mescolanze fra prima e terza persone soprattutto mescolanze di tempi le cose accadono le sappiamo poi però si tornano indietro per dirci come siano potute accadere ma soprattutto come sono visti da un personaggio poi dall'altro in un continuo intreccio di tempi di personaggi appunto di prima e terza persona emergono in questo romanzo per cocciutaggine affettiva e fedeltà sacrale la famiglia due grandi figure di madri bittori e miren due madri forti spicolose intagliate nel legno duro assolute donne ancestrali quasi delle lupe che proteggono i cuccioli insomma l'amor materno viene prioritariamente prima di tutto il resto al netto di qualche buonismo finale questo è un romanzo con i fiocchi ci sono anche molte parole in basco nella loro musicalità secca spicolosa anche anche affascinante ma c'è un glossarietto alla fine che aiuterà il lettore un bel romanzo patria di fernando aramburo